Ancora, andiamo a andare alle caselle, ma... ...e cosa? ...e come dalle? Pira forte qui! È una passatina di montanare. Va bene. Va bene. È nel 12. Montanare? Oh, ho, ho, ho! Cioè, 12, sì, sì. Oh, ho, ho, ho! Sì, sì, da 12, sì. Sento montante. No, no, sento montante. Io sto basso così. Sì. Siamo. Montanare e le 12. Va bene. Allora, attenzione. Ti vedi? ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.